Amici di Telemolisse, bentrovati, ultima edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo delle ultime novità che arrivano dal fronte politico. Il presidente del Tribunale di Sernia, Enzo Di Giacomo, ha annunciato il ritiro della propria candidatura al vertice della regione. Non ci sono le condizioni, ha scritto in una brevissima nota, dopo un lungo tira e molla tra i favorevoli e i contrari. Intanto i mediatori del centrodestra sono al lavoro per recuperare la disponibilità del magistrato. Ci dice tutto Giovanni Minicozzi. Considerato che da più parti continuo ad essere citato come ipotetico candidato alla presidenza della regione, non ritengo che vi siano state, né vi siano, le condizioni per le quali io abbia potuto o possa prendere in considerazione una eventuale candidatura. Tre righe inviate alla stampa dal presidente del Tribunale di Sernia, Enzo Di Giacomo, per annunciare il suo ritiro, almeno per il momento, dalla ipotizzata candidatura alla presidenza della regione. Come si ricorderà, il nome del giudice Di Giacomo era stato proposto alcuni mesi fa con determinazione dai movimenti civici e da singoli esponenti del centrodestra, ovvero Angela Fusco Perrella, Rosario De Matteis, Salvatore Micone, Filoteo Di Sandro, Giovan Carmine Mancini e Maurizio Di Berio. I partiti di centrodestra, invece, e in particolare Forza Italia e Lega, pur riconoscendo la validità della proposta, avevano deciso di rimettere la scelta finale nelle mani del tavolo nazionale. Evidentemente il tira e molla non è stato gradito dal giudice Enzo Di Giacomo e da qui la sua decisione di annunciare il disimpegno dalla competizione regionale. Secondo indiscrezioni, nelle ultime ore Di Giacomo avrebbe incontrato alcuni esponenti del centrodestra e dei movimenti civici ai quali avrebbe anticipato il suo passo indietro, che peraltro non è stato un fulmine a ciel sereno, poiché alcune settimane fa lo stesso Di Giacomo aveva chiesto la massima condivisione per il bene del Molise sulla sua candidatura. In mancanza aveva già preannunciato la sua indisponibilità. La lidirata di Enzo Di Giacomo dal punto di vista politico ora potrebbe condizionare anche la ritrovata unità del centrodestra e l'esito elettorale del 4 marzo. Non a caso i mediatori si sono messi subito all'opera e non si esclude che nelle prossime ore potrebbe essere sottoscritto da tutti i candidati al Parlamento del centrodestra un documento per invitare il Presidente del Tribunale a riconsiderare la sua posizione con l'impegno di definire presto e comunque prima del 4 marzo la sua candidatura al tavolo nazionale della coalizione. Al momento non è dato sapere se questa novità riuscirà a far cambiare idea al magistrato che occupa già un ruolo importante alla Presidenza del Tribunale di Sernia ma non è da escludere che qualora vi fosse un appello collettivo e condiviso Enzo Di Giacomo potrebbe ritornare sui suoi passi. E torniamo a parlare di garanzia giovani perché al Molise sono stati assegnati oltre 6 milioni di euro per la prosecuzione del progetto, un'iniziativa accolta con favore dalla Will che però avverte che occorre invertire la rotta rispetto al passato. Il Governo regionale deve coinvolgere il Sindacato nelle scelte sulla nuova programmazione ed evitare che si creino delle vere e proprie aree di parcheggio che favoriscano i datori di lavoro e non i giovani. Ci dice tutto, Anna Maria Di Matteo. La questione di carattere economico oltre che etico e coinvolge l'intero Consiglio regionale del Molise e la data delle nuove elezioni non è stata ancora fissata. Tra pochi giorni dunque la legislatura si chiuderà ma i consiglieri regionali, il Presidente e gli assessori pur non potendo più operare in alcun modo continueranno a percepire l'indennità di carica e di funzione, uno stato di cose che sta creando non poche polemiche. Michele Durante ha elaborato una proposta di legge e di iniziativa popolare che vieta la corresponsione delle indennità nel periodo di progrogazio consigliare. Abbiamo una legislatura che sta andando in conclusione, non abbiamo idea di quando verranno fissate le elezioni regionali. Ci sarà sicuramente un procrastinarsi della data perché altrimenti avremmo potuto votare nell'election day del 4 marzo. Ad oggi nessuno conosce quando i morisani voteranno per le regionali però conosciamo tutti la fine della legislatura, ovvero i 5 anni dalla data di elezione o di proclamazione degli eletti. Da quel punto in poi, ad avviso di chi sta parlando ma non solo di Michele Durante, un po' di tutti, è giusto che da ora e per il futuro i consiglieri regionali non ricepiscano più il trattamento economico da consigliere regionale perché sono scaduti nelle funzioni e nell'organo. Io lo avevo sollecitata questa cosa già a inizio mese, ho fatto due o tre interventi però è caduta nel silenzio più totale perché avevo invitato il Consiglio regionale o nelle more anche il Presidente della Giunta ad attuare quelli che erano gli atti più consoni per poter evitare questo spreco di denaro, questo costo ulteriore sulle spalle del cittadino molisano e anche questa forma di privilegio da parte di un organo che non più nel pieno delle sue funzioni continua a drenare i monumenti. Per essere chiari, la media per un consigliere regionale, considerate anche le imposte ritenute, tutto quello è l'ordo, siamo intorno ai 15 mila euro al mese, sono 21, stiamo parlando di oltre 300 mila euro al mese. Mi appello ai consiglieri regionali, mi appello ai consiglieri regionali perché uno più di loro vogliano prendere questa legge che io ho scritto, fate vostra questa proposta di legge, portatela in discussione in regione ed eliminate questo privilegio o meglio questo vantaggio enorme che non ha più motivo di assistere. Da domani sarà possibile sottoscrivere la proposta di legge a Campobasso negli uffici URP mentre in giornate il testo sarà inviato a tutti i comuni del Molise per dare la possibilità ai cittadini di sottoscriverlo per porre fine ad una consuetudine che indigna l'opinione pubblica. Si è aperto questa mattina e chiuso dopo poco il consiglio regionale del Molise, è stato il consigliere Francesco Totaro a porre al presidente Cotugno un quesito circa gli effettivi poteri dell'Assemblea, limitati dallo statuto in questa fase solo alla straordinaria amministrazione. Non si può procedere, secondo Totaro, all'esame ordinario dei temi all'ordine del giorno violando il dettato statutario. Totaro ha invitato quindi Frattura a firmare il decreto che indice le elezioni regionali. Davanti a queste osservazioni il presidente Cotugno ha chiuso i lavori riservandosi di chiarire la questione con lo stesso Frattura. Elezioni politiche Forza Italia riparte da Isernia con l'inaugurazione della sua sede elettorale al centro della città. Questo è il messaggio che hanno voluto lanciare questa mattina dal capoluogo Pentro i candidati al Parlamento del partito di Silvio Berlusconi. Riparte da Isernia perché tradizionalmente è sempre stato il bacino elettorale di riferimento per il centrodestra molisano. Per noi c'era Enzo Di Gaetano. Forza Italia ha scelto il centro di Isernia a lungo corso risorgimento, a due passi dall'auditorium, per inaugurare la propria sede elettorale per le politiche 2018. A tagliare simbolicamente il nastro i quattro candidati azzurri al Parlamento, Anna Elsa Tartaglione, Mario Pietracupa, Nunzio Luciano e Nicola Cavaliere. Per la coordinatrice regionale del partito di Berlusconi la scelta di Isernia non è casuale e vuole essere un messaggio preciso. È vero, ripartiamo dai Sernia. Isernia è una città di centrodestra. Forza Italia ha sempre dato grandi risultati in questa città e noi puntiamo a ripartire proprio dal nostro capoluogo di provincia. Perché? Perché in questi anni è stato abbandonato dopo la chiusura di grandi poli, dopo che c'è stata tolta anche per noi giovani la possibilità di avere un'università nel nostro centro che nel bene e nel male portava tante risorse anche a piccoli commercianti. Quindi lei coglie nell'aria una voglia di ritorno al passato? Sì, Isernia credo che già l'anno scorso l'ha dimostrato, dove ci sono stati due candidati del centrodestra che sono andati al ballottaggio. Ora siamo tutti uniti e quindi il rilancio parte da qui, parte dai Sernia per le politiche ma arriverà anche alle regionali. Per Mario Pietracupa, candidato alla Camera proprio nel collegio maggioritario di Sernia, la presenza nel capoluogo Pentro è un segnale di presenza dall'indubbio valore. Pietracupa oggi riparte Forza Italia e Sernia sotto il segno dell'unità? Ma Forza Italia non si è mai fermata. Diciamo che ora riparte con grande entusiasmo questo sì. Siamo tutti insieme e credo che non ci sarà nessun problema per affrontare le prossime sfide. Io penso che ci voglia molto poco per rimettere in moto il Molise. Dobbiamo soltanto star vicini alla gente, far capire loro che ci preoccupiamo dei loro problemi. Sono sicuro che ce la possiamo fare, ma dobbiamo ridare proprio quella fiducia che è venuta meno ultimamente. E infine Nunzio Luciano che batte freneticamente l'intero territorio molisano, che per lui, candidato al proporzionale nel collegio regionale, rappresenta anche un ritorno ai tempi iniziali di Forza Italia, di cui proprio lui fu il secondo coordinatore molisano. Nunzio Luciano, una campagna elettorale frenetica oggi a Sernia. Lei batte tutta la regione perché è difficile, una campagna elettorale difficile. Molto difficile, frenetica non direi. Adesso iniziamo a correre, sono abituato a correre e sono abituato a correre anche molto. Inizia adesso la campagna elettorale con una coalizione coesa, unita, pronta ad andare sul territorio da qualsiasi parte. Noi ci confrontiamo con tutti. Molti si nascondono, noi siamo sul territorio, abbiamo come Forza Italia, siamo il partito che ha più sedi e siamo disposti ad incontrare ogni giorno i cittadini molisani. Qualità della vita significa anche sentirsi sicuri, hanno spiegato i candidati del Movimento 5 Stelle, alle politiche, diciamo, basta ad amnistie, indulti, depenalizzazioni e al depotenziamento delle norme penali. Le nostre forze dell'ordine hanno continuato, meritano risorse adeguate. La candidata alla Camera per il centrosinistra, Maria Teresa D'Achille, ha evidenziato la questione dell'immoralità delle promesse irrealizzabili finora profuse nella campagna elettorale, come sottolineato anche dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Gualtiero Bassetti. Il programma del PD ha detto, spiega le 100 cose da fare, idee concrete e realizzabili sulla base delle 100 cose fatte in questi anni difficilissimi, di una crisi dalla quale stiamo uscendo gradualmente con segnali reali, nazionali e regionali. Il mio impegno politico ha continuato D'Achille, una scelta di vita prima di tutto civile e appassionata. Si alzano i toni della campagna elettorale in prossimità del voto. Laura Venitelli, candidata al Senato sul plurinominale per il PD in una conferenza stampa, ha attaccato Michele Iorio. Frecciate anche al Movimento 5 Stelle. La parlamentare ha invitato gli elettori a votare il PD per gli interessi del Molise. Ascoltiamo Manuela Iorio. Meno di due settimane dal voto, la campagna elettorale entra nel vivo e la prima a innescare scintille è Laura Venitelli, candidata al Senato sul plurinominale per il PD. Principale bersaglio delle sue accuse è Michele Iorio, avversario al Senato per il centrodestra, che in tanti anni di governo, a detta della parlamentare Dem, non ha fatto nulla per Termoli, ritenendolo anche responsabile della grave crisi del Molise. La Venitelli ha ricordato poi che tra il 2001 e il 2003 Iorio da senatore non fece una proposta di legge a suo nome e che mantenne per due anni il doppio incarico e il doppio stipendio quando fu eletto poi governatore del Molise. Queste cose, aggiunto agli elettori, bisogna ricordarle. Questa campagna elettorale è veramente una campagna elettorale menzioniera da parte degli altri. Sentire il candidato del centrodestra, Michele Iorio, e dire che riparte da Termoli, dalla perla del Molise, ci lascia pensare, ci lascia riflettere che per i 11 anni Michele Iorio, quando è stato presidente della Regione e contemporaneamente per alcuni anni anche parlamentare del Molise, questa perla l'ha tenuta chiusa nel cassetto e chiusa nell'Ostrica. Vorrei ricordare che questa città è offesa per quello che ha fatto Michele Iorio, che è offesa per aver legato il proprio nome ad un fallimento vero di Michele Iorio, che è il Termoliget. Ma, bordate, Laura Veriterli le riserva anche al Movimento 5 Stelle, definendolo anche questo in Molise figlio dello Iorismo, riferendosi al candidato al Senato Fabrizio Ortis. Nel Movimento 5 Stelle al Senato noi vediamo candidato il figlio del direttore generale della Regione Molise, ovvero di una persona che ha firmato tutti gli atti, compreso il Termoliget, compreso l'azione fallimentare per lo Zuccherificio del Molise, compreso tutto quello che è stato fatto in questa Regione. La Veriterli ha ricordato il lavoro svolto nei cinque anni di governo PD e traguardi raggiunti dalle aree di crisi complesse e semplici all'istituzione del Parco del Matese, dai risarcimento per le famiglie di San Giuliano di Puglia alla legge sul demanio per Termoli. Io chiedo al popolo meonisano uno scatto di reni, come si suol dire, un atto di orgoglio, continuare a votare il PD per avere alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, per avere una classe dirigente che resta in Parlamento negli interessi del Molise. E il candidato al Senato di noi con l'Italia, Michele Iorio, ha risposto punto su punto alle critiche accuse mosse nei suoi confronti da Laura Venitelli. Dimentica troppe cose da me fatte e dal governo regionale di centrodestra. Termoli, ha detto l'ex governatore. Sentiamo Tonino Danese. A Laura Venitelli, il candidato al Senato di noi con l'Italia, Michele Iorio, ha risposto punto per punto e partito evidenziando che, vista la disattenzione e l'indifferenza rivolta a Termoli dall'attuale governo regionale per la deputata Dem, sia difficile da accettare quanto da lui dichiarato, cioè che da città bistrattata dal centro-sinistra debba tornare a essere perla del Molise. Forse, ha detto Iorio, entrando nello specifico, qualcuno dovrebbe spiegare a Venitelli cosa sia l'articolo 15 e lei provi a chiedere alle centinaia di aziende che ne hanno usufruito i risultati raggiunti per l'economia molisana. Forse dovrebbe provare a chiedere all'imprenditore Guidotti quali siano i vantaggi per i collegamenti Termoli-Croazia che noi avevamo immaginato anni fa con benefici per l'intero territorio, progetto bloccato dai ricorsi. L'ex governatore si è poi soffermato sulla vicenda zuccherificio e indotto che ha rimarcato il governo regionale con l'assenso di quello nazionale e ha fatto di tutto per chiudere. Ha quindi esortato la candidata al Senato del PD a provare a chiedere agli ex lavoratori se oggi stanno meglio di ieri o a quelli dell'indotto. Iorio facendo riferimento sempre alle parole della Venitelli e alle sue critiche ha rimarcato che la parlamentare ha dimenticato di citare quanto da lui fatto per Termoli e il Basso Molise come il 95% della realizzazione dell'acquedotto molisano centrale che porta l'acqua dal Biferno a tutta quell'area. Il centrosinistra della Venitelli ha continuato l'ex governatore in cinque anni non è riuscito neppure a finire il restante 5%. Poi ha ricordato l'esistenza del finanziamento del dragaggio del porto di Termoli mentre ha detto ancora lo stesso centrosinistra non è riuscito a spostare neppure un granello di sabbia. Michele Iorio ha ricordato anche la realizzazione sempre da parte del centrodestra negli ospedali pubblici di servizi diagnostici di alta qualità e l'emodinamica funzionante mentre le iniziative del PD sono indirizzate ad accordi di confine con l'Abruzzo per lo smantellamento dell'ospedale. Ha portato altri esempi come l'abbellimento del centro storico di Termoli e del lungomare con finanziamenti del governo regionale di centrodestra l'affidamento all'università di un immobile regionale per le facoltà di ingegneria e turismo. Da parte del centrosinistra solo parole ha incalzato Iorio capisco che la caduta di stile di Laura Venitelli sia dovuta a quel nervosismo tipico di chi ha capito che non sarà eletto al Senato perché il suo PD l'ha destinata a un collegio perdente. Spero che ha concluso anche questo la deputata uscente non voglia debitarlo a me. Rapina al supermercato Sigma di Corso Vittorio Emanuele a Termoli un uomo con un coltello da cucina e il volto travisato si è presentato nella serata di ieri alla cassa intimando di consegnare l'incasso di circa 600 euro poi la fuga immediato l'allarme e l'arrivo sul posto della polizia scattate le ricerche composti di blocco le indagini sono dirette dal vicequestore della città Vincenzo Sullo Chiudete l'ospedale di Isernia l'appello provocatorio è di Lucio Pastore rappresentante del forum della sanità pubblica dopo l'ennesima giornata infernale vissuta al pronto soccorso del Veneziale mentre c'è gente che aspetta da giorni un posto letto infatti il flusso di persone aumenta con il passare dei giorni e il personale è carente sentiamo Sergio Di Vincenzo se l'obiettivo è quello di chiudere l'ospedale di Isernia lo si dica chiaramente ma di certo a queste condizioni non è più possibile andare avanti lo sfogo è di Lucio Pastore rappresentante del forum in difesa della sanità pubblica di qualità dopo l'ennesima giornata di caos vissuta al pronto soccorso del Veneziale l'afflusso continuo di gente la mancanza di posti letto nelle varie strutture e la carenza di personale hanno fatto piombare il reparto nel caos ci vorrebbe una scelta politica chiara che cosa dobbiamo fare se si vuole chiudere che si chiudesse questa struttura se si deve privatizzare perché tutto questo succede per il processo di privatizzazione cioè la cessione di gran parte dei fondi dei mezzi dei posti letto alle strutture private che li utilizzano per un'utenza che viene da fuori quindi se i nostri utenti non possono più avere risposte lo ci dicesse chiaramente e se si vuole privatizzare si privatizzassero anche questi servizi in maniera tale che si decide che il privato dovrà rispondere anche di tutte le urgenze che ci sono sul territorio le denunce della situazione critica che si sta vivendo al pronto soccorso di Sernia sono continue ma di risposte convincenti finora non ce ne sono state con il passare dei mesi e degli anni le cose sono semmai peggiorate ieri in reparto si è vissuta una delle giornate più infernali in assoluto la situazione è quella drammatica che abbiamo vissuto nella giornata di ieri dove c'era un continuo afflusso di pazienti arrivavano ambulanze per un incidente altri pazienti portati dalle strutture per cronici non sapevamo dove posizionare questa gente quindi ci siamo trovati che arrivavano ambulanze con un pronto soccorso completamente intasato c'erano persone che stazionavano nel pronto soccorso da 5-6 giorni la cosa assurda se qualcuno avrà visto teniamo i vassoi per il cibo cosa che noi non dovremmo avere perché non siamo un reparto di detecenza e c'erano più di 10-15 vassoi il che significa che siamo stati trasformati in un reparto di detecenza senza personale né medico né paramedico quindi con lo stesso personale a cui rispondiamo alle urgenze dobbiamo rispondere anche a quelli che sono i degenti che rimangono nel nostro servizio i consiglieri comunali dell'intergruppo laboratorio civico al comune di Campobasso Francesco Pilone Carla Fasolino Alberto Tramontano ed Enrico Perretta hanno chiesto la convocazione urgente della commissione mobilità per conoscere non solo le motivazioni che hanno spinto il comune a sospendere il bando per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico comunale ma anche per capire cosa intenda fare l'amministrazione sul prosieguo del servizio presentazione a Campobasso dei candidati al Parlamento del partito del valore umano una forza politica che vuole rimettere al centro la persona con i suoi diritti attraverso un nuovo umanesimo sentiamo Tonino Danese un partito che si ispira ai valori etici a una politica che torni tra la gente un partito che vuole promuovere un nuovo umanesimo in cui la persona sia al centro il partito valore umano ha presentato i propri candidati al Parlamento per la circoscrizione di Campobasso alla Camera Elia Rubino e Giovanna Iacovino Paola Perpetua per la circoscrizione di Isernia al Senato Anna Maria D'Andrea è la base etica di partenza di questo movimento nato due anni fa che si è costituito ad Assisi a dicembre del 2017 come partito e che oggi vuole proporsi non come alternativa vuole proporsi come sfida se vogliamo per tutti per dare un segnale che si può cambiare qualcosa non più con le parole ma partendo da una coscienza individuale che ahimè purtroppo lasciatemelo dire nel nostro mondo sta venendo sempre meno noi crediamo come persone che la politica la vera politica non la partitica deve partire da uno stravolgimento di un'etica che ormai è diventata troppo personalistica in una società in cui la dissoluzione dei valori è sempre più in atto i programmi ce ne sono tanti le idee sono tante ma se non c'è una base etica le idee vanno meno chiaramente le nostre idee si possono approfondire sul sito internet www.partitovaloriumano.com una nuova dignità dell'uomo fondata su una redistribuzione forse utopica se vogliamo ma realizzabile assolutamente realizzabile di tutte le risorse per far sì che tutti possano partire non più a debito cosa che accade in Italia ormai da secoli e non abbiamo detto più niente ma partire a credo il partito valore umano ha l'obiettivo di proporsi come un nuovo modo di interpretare la politica ed è importante recuperarla questa dignità perché stiamo in un periodo veramente non ne abbiamo non ne abbiamo proprio più stiamo stiamo perdendo tutto non vogliamo fare politica nel senso vecchio della parola cerchiamo di fare una politica nuova anche in Molise ci sarà la possibilità di diventare tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati lo comunica la garante dei diritti della persona della regione Leontina Lanciano l'obiettivo ha detto è creare un nuovo modello di cittadinanza attiva e di genitorialità sociale con l'istituzione di albi regionali il corso di formazione sviluppato secondo le linee guida per la selezione formazione e inserimento negli elenchi dei tutori volontari elaborate dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si svolgerà da venerdì 23 a lunedì 26 febbraio presso l'hotel Centrum Palace di Campobasso il programma completo è consultabile sul sito garante dei diritti punto regione punto molise punto it e torniamo a parlare di garanzia giovani perché al Molise sono stati assegnati oltre 6 milioni di euro per la prosecuzione del progetto un'iniziativa accolta con favore dalla Will che però avverte occorre invertire la rotta rispetto al passato il governo regionale deve coinvolgere il sindacato nelle scelte sulla nuova organizzazione e programmazione ed evitare che si creino delle vere e proprie aree di parcheggio che favoriscano i datori di lavoro e non i giovani ci dice tutto Anna Maria Di Matteo a Monta ad oltre 6 milioni di euro il finanziamento destinato alla prosecuzione di garanzia giovani molise è stato infatti firmato il decreto dall'agenzia nazionale per le politiche attive e occupazione per la ripartizione delle risorse tra le regioni si chiude così la fase intermedia della programmazione 2014-2020 dalla Will la segretaria regionale Tecla Boccardo ha accolto positivamente il provvedimento ma al tempo stesso ha ribadito la necessità di un cambio di passo rispetto al passato una vera e propria inversione di rotta il sindacato va subito ascoltato e coinvolto nella programmazione ha dichiarato e non tagliato fuori o ascoltato frettolosamente come accaduto in passato non un euro può andare sprecato ha aggiunto la Boccardo occorre cogliere questa opportunità per contribuire a realizzare una prospettiva per i nostri giovani soprattutto per quelli di età compresa tra i 15 e 29 anni che non sono iscritti a scuola non frequentano l'università che non lavorano che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale e nel nostro paese sono più di 2 milioni un quinto della popolazione di riferimento ha ricordato la segretaria regionale della UIL che ha anche detto stop all'uso indiscriminato e massiccio di risorse destinate tirocini aree di parcheggio che favoriscono più datori di lavoro che sfruttano che i ragazzi che coinvolgono ha denunciato la Boccardo la UIL ha annunciato che sarà vigile affinché il pacchetto di garanzia giovani venga attuato nella marinara corretta e ha lanciato un messaggio forte e chiaro la prossima classe politica che andrà a governare il Molise aspettiamo al Varco coloro che saranno chiamati a gestire la regione in qualità di autorità intermedia di gestione e titolare della programmazione e dell'utilizzo delle risorse assegnate ha concluso la Boccardo bene con questo è tutto vi diamo appuntamento per domani mattina con la prima edizione del nostro telegiornale a voi tutti buonanotte grazie a tutti Grazie a tutti.